L'Oculus L'Oculus Perché creare un cassetto sulla fronte di un essere umano? Per riporvi che cosa? Un'opera dai colori anni venti cita il surrealismo. Ne assorbe l'ideologia. Come può un artista slegarsi dal suo manufatto? Resta pur sempre un pezzo di carta. Resta pur sempre un insieme di linee e colori. Perché imitiamo la realtà? Cosa ci spinge a voler riprodurre una cosa?